ragazzi benissimo è tornato anche il sole non ho fatto il vaccino va tutto bene e allora quello che farò io e ripeto che farò io il consiglio che hanno dato a me non sto dando consigli medici lungi da me quindi ripeto per la seconda volta quello che farò io è prendere una tachipirina ora confuso ma felice questo è il cosa c'è non ci sta osservando perché cazzo non te ne vai non amore chissà 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 Adesso gira Girati Amore se tanto si gira cosa fa? No c***o Questa macchia che mi è bevuta sul volso Raga sto volendo anche il funeral party Che mi fa troppo ridere Che mi fa troppo ridere